buonasera ragazzi oggi vi porto 10 pacchetti di regno glaciale però in inglese ok apriamo adesso ci può fare anche la batteria scarica tra una cosa velocissima perché devi fare questo slot in gavi c'è anche la batteria scarica devo fare una cosa super mega veloce ecco Sanaconda Remax Katlin allenatore 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 Facciamo un resoconto, Urn of Vitality, Katlin, Sanaconda V-Max e Slocking V. Grazie per oggi e tutto, alla prossima.